Bella a tutti ragazzi, ben ritorno del vostro giocatore, siamo tornati signori sul quarto appuntamento di questa fantastica avventura del viaggio di Hunter Siamo qua, andiamo sempre per il nostro... ah ok, ci dobbiamo allenare un pochettino oggi Anche perché l'ultima volta, cioè ieri abbiamo fatto, e per me 30 secondi fa, abbiamo ricevuto un infortunio alla spalla che non è, cioè che ci è piaciuto moltissimo Non siamo ancora nei titolari momentaneamente, anche se abbiamo sognato la doppietta Perché dobbiamo, vedete, io sei Murigno, dobbiamo andare un po' di più titolare, quindi ancora ci manca un pochettino Sessione di arna e elementi, passaggio in porta, dobbiamo fare più passaggi durante la partita, all'interno della missa, vogliamo vedere una buona, perfetto Più passaggi, quindi passaggio filtrante, passaggio calibrato, tiro, perfetto Servi il tuo compagno nei spazi con passaggio filtrante, c'è un pochettino, ogni cosa... ok, perfetto, avete capito anche voi, avete capito, perfetto Dobbiamo fare passaggi e poi un bel tiro Ok Ti, mi sto scambiando la palla con Ibra, regà Ma rendete conto? Vi rendete conto? Che bomba a mano che ti tiro Che mi sto scambiando la palla con Zlatan Ibrahimović Guarda che buona Ancora continuiamo così Va bene Zlatan Va bene così, ottimo lavoro ragazzi Ottimo lavoro Bellissima Tiè, si è fatto autocall, bravi Ottimo lavoro, però ancora no, eh Dobbiamo essere più aggressivi, su Ok, perfetto ragazzi, abbiamo fatto eccellente Io ovviamente non è che vi faccio vedere proprio tutto quanto sta mappata da roba Se no, mamma mia sa che roba Però intanto abbiamo fatto un bel eccellente e ci siamo portati a casa i nostri punti Perfetto, perfetto Ah, quell'altro sessione non disponibile, forse sarà perché mi sono infortunato, non lo so Comunque siamo sempre per quanto riguarda i sostituti E dobbiamo cercare di andare con i titolari, ragazzi Quindi dobbiamo cercare di impressionare un po' di più l'allenatore Allora, abbiamo ancora un punto abilità Tributi, ok, perfetto Quindi direi di Ice Toff, Hunter, devi solo continuare a lavorare Perché Hunter non gioca Perché Hunter gioca i titolari, perché? Allora, state garbo, fate Contro il suo tempo Ok, altra partita ragazzi per noi Quindi andiamo immediatamente a giocare anche questa Qui forse ci fanno giocare i titolari Non credo, non credo Però vediamo subito se ci fanno giocare i titolari, meglio così Io ovviamente, ragazzi, comunque ci tengo a dire Grazie per il supporto che mi stai dando per questa serie E come ben sapete ragazzi, ve la porto perché Per me è qualcosa di fantastico Ma ve l'avrei detto e ve l'avrei portata E ovviamente, raga, ve la sto portando così spesso Perché comunque almeno la facciamo subito E poi dopo ci dedichiamo appunto Anche per quanto riguarda tutte le altre cose Adesso che abbiamo questa opportunità Per giocare queste dieci ore Voglio portarvi più episodi possibili di questo Però poi vediamo appunto se dopo questi quattro episodi Volete anche comunque qualche altra cosa Vediamo un attimino perché Io vorrei continuare a giocare questa modalità ragazzi per il momento Ok, perfetto Fai colpo sul mister 7.0 Gioca di squadra 2 Quindi ottieni due assist E vinci la partita Ok, perfetto Quindi dobbiamo fare colpo sul mister Entriamo al posto di Rooney Attenzione Ciao Rooney Buonasera Buonasera Siamo entrati al 61esimo Siamo ancora sullo 0-0 Sto giocando come centrocampista ragazzi Eh Ok Ok Eccolo No Da che ti sei cagato Mannaccia la miseria Ma che ti sei cagato E tira E tira mortacci di Pippo Stiamo attenti che qua se si infortunammo su Danny Eh No Me ne stava andrà drittissimo proprio Oh 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 Me stava a menà Ne cattiveria eh Eccolo Eccolo Mortacci di Pippo Protinità sprecata Che cazzo va a parata Che devo fa Mannaggia C'è i sandali No Guarda Era perfetto Ah Peccato Peccato Qui non abbiamo fatto proprio 0 Rega Qua non abbiamo giocato male questa partita Però Che devo fa Porca miseria Che devo fa Allora Vediamo un attimino Ok Siamo al 63 Puntabilità Quindi niente di granché 0-0 ragazzi Non va bene Non va bene Abbiamo 3 punti La vediamo un attimo con 3 punti Se possiamo prendere qualche altra cosa di buono Forte di testa Ripesta lunghissima No Mettiamo Scivolata No contrasto No Controllo Valla dribbling Mossa abilità Mettiamo Passaggio effetto Passaggi corti Lunghi Cross Rigori Tiri dalla distanza Tiri dalla distanza Ragazzi Tiri dalla distanza Assolutamente Allora Vediamo un attimo No Non c'è un giocatore mondiale come Harry Kane con la squadra, siamo confidanti che ci puoi imparare l'anno scorso l'anno scorso. Harry, come ti senti di signo? Sì, molto animo. Mi sento di essere qui. È un giorno speciale per me. È quello che faccio qui. Signo di signo. Un altro giocatore? Sì, pensi che gli stai iniziando a giocare l'anno prossima. Sì? Chi hai parlato con? Ho scelto un po' di spettacolo. Non mi piacere, è un po' di spettacolo. Sì, spettacolo, Michael. Sì, pensi che gli stai iniziando a giocare Gareth dietro. Apparentemente è un migliore fit per il sistema. Michael, Michael e Billy Ben-Arlington. Siamo insieme a molti promessi notici a Dark Walker. Quindi siamo molto felici che ci stiamo adesso, ma in questo gioco non vedrai mai. Buongiorno. Ehi, Harry. Eh, prontaci nel campo. Debutto questo weekend. E' bevono del club. No, facciamo bevono del club. Welcome to the club, man. Oh, ciao. Ti va bene, Alex? Sì, vedo il tuo debutto. Hai fatto bene. Sì, devo fare un po' così, regà. Guarda pure per quanto riguarda l'allenatore, che mi serve un po' di rubito. Abbiamo cercato di fare dei meglio, regà. Vediamo un attimino. Che questo poi è arrivato. Arrivato a rompere proprio le palle. Ok, sempre da parte dei sostituti. Perfetto. Buona notizia. Dobbiamo fare divisa semplice, divisa semplice contro uno. Inizia lamento, quindi... Vabbè, bisogna difendere. Contrasto all'avversario, ok. Contrasto palla ho scivolata. E vediamo un attimino che cacchio riusciamo a fare, regà. Perché qua, se no, la situazione si fa più tragica del solito. Ecco. Ma vale anche uccidere Zlatan, eh? Ok, vai Zlatan. Vai Zlatan. Dammi questi punti. Dammi qua Zlatan che ti metto a dormire. Vieni qua, bello del zio. Liscio. A posto. Porca vacca. Dai. Dai. Buono. Perfetto. Ottimo lavoro. No, ho lisciato. Mannaggia Sandi. Ah, no, però l'ho fatto sbaglia. Vedi, eccellente. Ho preso eccellente. Quindi dai, tanti punti per noi. Eccellente subito. Difesa semplice. Va, facile, facile, signori. Cerca di portare via la palla agli avversari in difesa di situazione di 2 contro 1. Muove, scivolata, mantieni, spingi, strattona, uscita portiere. Vabbè, ok. Dobbiamo cercare di fa... Ok. È la stessa cosa di prima. Buono. Mille per noi. Subito. Ok. Buono così. Bello. Arca vacca. Facci un po' il portiere. Vieni qua. Oh, Zaladar. Cosa cazzo cuori, fratello? Dammi qua, su. Perfetto. Sessione odierna di allenamenti completata. Abbiamo preso veramente belli gradi. Anche qua tutto A, ragazzuoli. Giuseppe Morigno ancora mi tiene sostituto. Sto fascia da culo, guarda damma, da ora lei gli stacco le gengive. Come in. Come in. Come in. Buongiorno. 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 Scogli bene. E un giorno il tuo nome sarà sull'esercizio. Entri? Buono. No, andrò con te. Buongiorno. 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 Eccoci. Un quarto d'ora solo ci sta. No, vabbè, ma tu sei matto. Fa colpo sul mister, 7.0. Fai la tua parte, ottieni un assist, vinci la partita. Eh, terrifican cazzo. Eh, va bene. Va bene. Regà, qua tocca. Però ci ha dato solo un quarto d'ora. Cioè, qua tra un po' dacci tre minuti, no? Tra un po' faccio giocare 5 secondi. Qual è il problema? Non c'è nessun impegno? Andategli addosso. Buono così. Andategli addosso, dai. Ma sei un cretino. Ma prendi, madonna mia. Ma prendi quel pallone. Prendi quel pallone. Forza e coraggio. Dai. Dai, cavolo. Dai, dai, dai. Dai che dobbiamo farlo, eh. Dai che dobbiamo farlo. Tacci tua. Ma che è un passaggio questo? Ha disgraziato pezzo di merda. Ma che è un passaggio? Madonna mia. Madonna mia. Una diarrea di quelle proporzioni che vedele prende proprio. Dai, su. Guardate, guarda che maledetto. Dai, dai che buona, dai che buona. Dai che to... Ma vaffanculo. Ma dai. Ma dai. Ma dai. Ma che cazzo? Ma che che... Ma che passaggi so? Ma che passaggi so? Ma te sei da denuncia. Sei da pura denuncia. Vai. Oh, eh. Eh, 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 eh. Ce la siamo presa la punizione, eh. Ce la siamo presa la punizione, eh. Ce la siamo presa la punizione, ragazzi. E se faccio qua? E' tirato ormai, vè? Eh, eh, è tirato ormai, vè? Eh, è tirato ormai, cavolo. Eh, ho provato a segnare io, regà. Qua dovevo provare a segnare io. Oh, buono. Buono, 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 buono. No! Che errore, che errore che ho fatto, regà. Dovevo passarla. Dovevo passarla. Ho fatto l'errore stupidissimo. Perché volevo andare a segnare io, regà. Invece dovevo passarla, che dovevo fare l'assist pure. Grande stronzata per me. Ma grandissima proprio. Ma una di quelle proprio eccezionali ho fatto, eh. Eh, niente. Mannaggia, i sandali! Forse ultima azione. Ma che cazzo fai? Oddio, 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 oddio. Che occasioni sprecate. Che occasioni sprecate, ragazzi. Mannaggia la miseria, però. E che passaggi di merda che mi fa sto cazzo di computer. Vabbè. Abbiamo vinto, però, porca miseria. Allora, vediamo. Bonus titolare niente. Bonus goal niente. Perché non l'abbiamo fatti. 66.600. Io sei Mourinho. Sempre più distante. Sempre più normale qua, ragazzi. Eh no, perché dobbiamo cercare di vincere e di segnare. Però mi hanno fatto certi passaggi stupidi. E' anche vero che mi sono cagato un'opportunità, ragazzi. Un'occasione veramente... Da matto. Da matto proprio. Là dovevo dare la filtrante e forse segnava. Allora, andiamo un attimino. Se andiamo avanti ancora che ci dico. Così si fa. Ma ci sarebbe risultato un oggetto bene. E' per giunta con un altro campo del secondo tempo. Vabbè, perfetto. Quello, ok. Calci piazzati. Eh, questa è una cosa importante. Calci piazzati. Punizioni basi. Cross su punizioni. Ok, allora, perfetto. Andiamo a vedere. Ok, ragazzi. L'ho fatto. Senza ve l'ho fatto vedere. Sono due palle. Quindi abbiamo fatto anche qua eccellente. Adesso vediamo se c'è qualche altro tipo di allenamento. Oppure mi voglio giocare, ragazzi. Voglio giocare perché devo cercare di fare gol, doppiette, triplette, rovesciate e cose varie. Dai. Ok, ragazzi. Finalmente si gioca Manchester United contro Manchester City, ragazzi. Speriamo. Hunter, devi sfruttare questi minuti. Perché Hunter gioca titolare? Perché? Vabbè, state carmo. Scusa. Mi chiedo se la dirigenza darà ad Hunter una possibilità questa settimana. Ovviamente. E poi, ragazzi, io ve lo dico. Cioè, io praticamente sto giocando solamente con Hunter. Perché il bello di questa modalità non è usare tutta la squadra. Perché tutta la squadra non c'ha senso. Perché comunque devi giocare appunto solo col tuo giocatore che ti dà il gioco. E cerca di sfruttare l'obiettivo. Perché se no, diciamo che è un po' più facile fare a occasioni, gol e vincere partite giocando con tutta la squadra. Quindi fai colpo sul mister. Ok. Cogli l'occasione e quindi a meno due assist devo fare. Capirai. Qualcos'altro mi potevi chiedere, no? Ci siamo, ragazzi. Un po' di velocità. Ecco. Abbiamo perso già palla. Bene. Vabbè, siamo andati al sessantesimo. Il tempo ne abbiamo, ragazzi. Tempo ne abbiamo. Buono. Orca miseria. Orca miseria. Ancora 5 punti due, ragazzi. Micchia, stiamo giocando male. Vai. Vai. Porca miseria. Mamma mia, poi devo segnare, ragazzi. Gli ho attivato un bel tiro di testa, eh. È stato bello come tiro. Hunter. No. Me ne sta andando bene. Me ne era andato veramente bene. Vabbè. Comunque abbiamo vinto, ragazzi. Anche se io te l'ho fatto una merita cippa di culo. Però abbiamo vinto un bel 2 a 0. Quindi finalmente il carico è completato che solamente vinci la partita. Ma già stavamo 2 a 0. Quindi è normale che vincevamo. Ma questa va bene. Allora. Abbiamo... Quanti punti siamo? Se non sbaglio dovremmo stare a 9 punti, ragazzuoli, eh. Abbiamo un altro tributo che ci teniamo, ovviamente. Ovviamente ci teniamo. Non andiamo a sprecare questo tributo così. Vediamo un po' se ci fanno fare, spero, subito un'altra partita, ragazzi. Perché questa qua ovviamente è durata pochino. Perché se ci fanno entrare al sessantesimo non abbiamo neanche il tempo minimo per fare un'azione e cose varie. E anche perché giocando solamente con Hunter è veramente più difficile. Vediamo un po'. Ok, allenamento. Dobbiamo fare un po' di allenamento ancora con i tiri. E porca miseriaccia, bubonica. Se scelgo di arena di allenamenti, tiri dalla distanza, colpi di testa e tiri al volo. Mamma mia. Qua ragazzi so proprio un fenomeno. Quindi... So pronto. So pronto. Qua sono un fenomeno. Io ovviamente ragazzi questi me li faccio sempre, forse un po' da solo me li faccio senza che vi faccio vedere comunque tutto quanto a voi. Quindi mantieni per... Tirare! Qualcosa non riusciamo a prendere il palo, ma ti rendi conto? Oh... Questo sì. Bomb. Tira al volo. Bam! Bellissimo. Questo tutti tiri al volo... Ecco. Appunto. Tutti tiri al volo un par de cojonans. Madonna che missili. Ma quando mi... Inculate! Bomb eccellente. Sbam! Chi è? Porco due. Ma come me chiamano? Giocherigno? Magari a fangorder genere in realtà. Ma sai chi? Che crede caro? Panico. Madonna ti è. 20.000 punti. Pam! Mamma mia. 24.000 punti. Eccellente. Te credo che eccellente. Sono più forte. Alex Hunter a titolare per il cognome che porta. Chiunque altro al suo posto giocherebbe con la primavera. Ah! Bastardo che non sei Arthur. Ma come ti permetti? Ti è Watford Manchester United. Ci andiamo a fare anche questa partita oggi ragazzi. Proprio. Sblem. Sblem. Sblem proprio. Ok ragazzi. Si gioca. Fanno la sostituzione. Eccoci qua. Siamo prontissimi. Fa colpo su un vista. 7.0. Inferisci. Segna due gol. Madonna mia addirittura. Dovevo segnare due gol? Vabbè giustamente con una squadra un po' così. Quindi dobbiamo segnare sempre il posto di rune. Quindi ciao rune. È stato un bel piacere. E vediamo un attimino se riusciamo a segnare questi due colletti ragazzi. Vediamo un po' se riusciamo a segnare questi due colletti. Hunter. Hunter! Urca miseria! Cazzamo fragili però ragazzi. Buono. Buono. No ma come cazzo che stop ha fatto? Che stop hai fatto amico mio? Vai. Vediamo sto calcio d'angolo se si può trasformare in un gol oppure rimarrà una delusione. Che neanche un golletto. Mi sa che neanche un golletto. Oh. Portacci vostra. Hunter! Eh ci ho provato raga. Niente. Finisce qua. Eh ma. Cazzo ma. Pretendene leggermente troppo a difficoltà esperta a mettere due gol. O a mettere che faccio 7.0 eh. Eh. Minchia. Abbastanza difficile. Anzi. Eh. Eh. Portacci vostra. Allora. Vediamo un pochetto. Prima di partita cosa. Comunque. Guadagniamo 90.000 sterline. Buono. Ancora. Io sei morligno. Prima che arriviamo titolare. Ma sa che questo. Tocca. 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 Tocca.